Grande saluto dal circuito Riccardo Dormo di Valencia dove tra qualche minuto andrà in scena l'atto conclusivo di questo mondiale Moto2. Il tempo è sereno e le temperature sono perfette per correre, quindi restiamo in attesa solo di capire chi tra i piloti ha optato per gomme dure e chi invece sceglierà le modi. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti.